Bella ragazzi, nuovo giorno, nuova modalità di gioco chiamata Blackout, il campo diventerà oscuro nel bel mezzo della battaglia Andiamo a vedere ora in questa modalità di gioco come ci troviamo Il mio deck usano il mio solito Questo qua, quello che vedete Quindi andiamo subito Vediamo Come andiamo in questa partita Vai subito con l'Arciere Magico Infernale e ci prepariamo la Tornado Ottima Tornado Ottima Tornado Ora dobbiamo vedere da questo lato che c'è Quindi ci difendiamo con il Principino, non mi ricordo, è il Pecca Aia Oh, riusciamo a salvare il Principino, per fortuna Subiamo, subiamo danni alla nostra torre a destra Dobbiamo andare con il Recruiter Royale, sì Recruiter Royale Guarditore, poi ci mettiamo la Mongolfiera in alto, vai Sì E c'è il Magico dietro Vai col Principino Sì, prendiamo la torre, andiamo con l'abilità del Principino Riesciamo a prendere la torre Ora dobbiamo difenderci Infernale Ah, sbagliata Sbagliata l'infernale, comunque va bene Siamo ancora avanti E adesso andiamo con la reclute Andiamo con la reclute Vai Infernale Principino Il Guaritore è qua Ancora l'infernale No Eh, qui subiamo Non possiamo farsi niente Ma c'è l'unica Karma che ci può salvare E non ci salva La perdiamo, la perdiamo, va bene Va bene Proviamo a farne un'altra, ragazzi Iniziamo a capire come funziona, quindi In questa partita dovrei riuscire a farla Infernale Centrale Attenzione perché Andiamo a subire un po' Il Guaritore Il Guaritore a guarire Benissimo Tornato Ottima Ottima la Tornato Andiamo a picchiare sulla torre Infernale Ah Troppo tardi No 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 attenzione che stiamo danneggiando la torre a sinistra buono difendiamoci con l'arciere magico intanto la torre a destra è andata giù si e qui adesso guaritore mongolfiera useremo vai con guaritore vai subito con mongolfiera ora però prendiamoci becchiamo un po di danno becchiamo un po di danno con la mongolfiera che va però guaritore perfetto e l'infernale la tornato così e qui c'è 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 il tris c'è il tris bene 1 a 1 ragazzi 1 a 1 dopo una prima sconfitta arriva una vittoria direi che questo video può finire anche qui spero che vi sia piaciuto ragazzi ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un like per sostenere me e il mio canale naturalmente ci vediamo nel prossimo video bella a tutti